detto dal pump vero no cazzo c'è l'ho scelta né se vuoi che l'ho sentito aspetta per la vera si è sopra e sopra qua è sopra 3 1 blow 1 di 2 guarda 6 guarda 7 è l'altro devo curarmi bravissima mara mia volevo vedere se al drop andava qualcuno c'è un lama la non c'è più lama è scomparso si c'è vuoi fare drop più lama si drop sicuro dobbiamo prendere un attimo il leva oro allora se spazza per me grazie amore ma cosa corri che sono shiftata no a parte che l'accio sono due vets che volano no vado dall'affare va no skip aspetta dogelo dogelo aspetta va bene è l'acqua un po' però è l'acqua un po' però ti ho preso è l'acqua un po' però sento un pad su di me ma su it su di te forse di te forse eccola qua dietro noccato dove stava di te caccato caccato no no io sono indietro amore arrivo arrivo da te ti do una mano fianco ma ciotto muorzi entrambi dai imparate a giocare scassi madonna io neanche l'ho visti amore l'ho visto solo lui uno era detto all'albero che stiti e allora ti dico perché uno secondo me era che forza snappo era fermo detto all'albero che mirava verso destra da te e non ha sparato però non mi vedeva anche perché non ero lì era fermo che mirava l'ho preso e ho fatto tipo triple headshot con la con la con eh lì la OG era immobile era immobile era stava proprio guardando te palesa è un appino quindi che guardava la stremmetta eh guardava te però non guardava a me quindi si stanno faietando questo guarda lì là sopra guarda lì là sopra 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 ma che cazzo fanno vabbè ma che cazzo ne so no io non ci vado li faccio scendere aspetto che scendano dai stanno anche sparando degli altri perché è la serata mare mia mare sono entrambi col dmr lì là sopra si e infatti sono scesi hai il pad tu eventualmente non si sia venire da me riusci a paddare da me tranquilla arriva arriva vai 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 mi metto nella loro sotto in un secondo io ok siamo andati no 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 amore amore quella qualcosa amore quella qualcosa amore te lo giuro su mia madre come fa vedermi sulla nebbia ma dove una nord ovest la sopra sopra la struttura sta lasserando tutti tutta la lobby tutta la lobby Gesù amore sparava attraverso le pareti attraverso la nebbia siamo qua siamo qua siamo qua hai certo certo per flopper ti faccio una splash no 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 quella no se se ve la faccio che c'ho quello spicy no 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 ragazzi col dmr questa precisione ma state scherzando a quel range erano no ma sono erano 200 metri amore si arrivano secondo me si ho la nebbia esatto quella nebbia ragazzi non li vedo vedo solo gli shot per quello vi dico sentilo sentilo come spara questo è un demon un demon è con qualcosa però va bene guarda da dove spara guarda da dove spara amore te l'ho detto te l'ho detto amore te l'ho detto amore amore c'era pieno amore pieno di nebbia ruotiamo ruotiamo amore ci siamo questi qua vieni facciamo lo spice facciamo lo spice facciamo lo spice vieni qua vai 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 amore attraverso le pareti con la nebbia 200 metri quelli sono amore guarda sono 250 metri da dove cazzo sparava da lì sopra dalla sopra da cosa la si è appena buttato preparati ok sta andando di là sta andando di là sta andando di là devo farmare a me ho fatto sparare tutti i mouse quest siamo due v2 v2 si si ma infatti anche l'arma sparava velocissima e quella infatti il dmr non è veloce ma non così non lo so raga mi sospetto potrebbe essere molto accurate vai amore io sono qua sui rilassi stanno sparando guarda tutto in testa guarda tutto in testa 30 white 30 white guarda guarda oh mio dio amore no amore amore questo qua è one shot però stasso amore vada amore vada 26 eccedere quello lì amore eccedere quello lì per forza amore no 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 ma ok altri dietro guarda dove arriva l'altro soft aim potente questo eccolo eccolo è partito è partito guarda io soft aim potente ha la skin rosa quella che noi diamo c'è why you ma stiamo vari anna è rimasto con ma stavano i tempi era morto ragazzi lo so ma io ho fatto doppia di città quello lì eh vado di lo crackato vado di tirato il bianco 23 22 con l'altro 22 di nuovo 26 no amore mi sono rotta il c***o amore mi sono rotta il c***o non ho più shield vieni qua vieni qua vieni qua aspetta questi tuoi faccio le splash eccolo è lui 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 no no ma attraverso il muro amore attraverso il muro vieni qua fai le splash fai le splash fai le splash diciamo alla gente che hanno i programmini col c***o che si guanno questo c'è il programmino oddio santo no raga una roba così un cheat così non l'ho mai vista nella mia vita su fortnite in quattro anni mai visto mai 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 anzi sì una volta sì ma tre anni fa dobbiamo ruotare amore vieni com'è buona fortuna io non ho mazza amore vieni qua vieni qua vieni qua vieni questi dove l'altro perro no amore ma una roba così mai vista no ma manco io amore vado no amore se potete non ci uccidere qui 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 è soppatita è soppatita è soppatita sì sì ha fattuto soppatita vieni bastardo vieni bastardo oppure sotto che schifo mio dio mio dio mio dio mazza c'è poco però c'è del mazza guarda attenta vuole a piccare perché era qui eccolo io vedo laggiù quello là non è il cheater quello là non è il cheater no 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 raga questa cosa non no non è possibile a me ha preso attraverso le bill eccolo là sì sì anche a me 21 doppia 21 al cheater siamo 2v2 amore con di cheater siamo io ho zero cure si non ho nulla amore va bene va bene va bene va bene va bene eccoli no amore mio amore mio amore 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 è difficilissimo da mirare guarda 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 c'è questo qua si è messo qua sopra con la nebbe e vedeva tutto ok e Nike guarda 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 mette il cursore su tutti quelli che sono dentro i building guarda 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 tutti 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 dal primo all'ultimo li vede tutti li vede com'è possibile le build vedeva questo ah ha sparato a caso amore ha sparato amore non c'era nessuno amore non c'era nessuno non c'era nessuno ha sparato perché c'era questo qui che saltava quello verde ha sparato prima in prefire subito guarda 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 è giusto è morto ok l'ha ucciso lui sa che c'è uno sotto di lui lo sa guarda guarda lo sa guarda come lo sa guarda come lo sa eccolo è pure quasi morto guida guarda guarda altra verso il muro altra verso il muro altra verso il muro allora andrà avanti andrà avanti guarda la stessa prende me che io sono dietro di te inizia tipo a prendermi vedi riesce a prendermi allora c'era il ginocchietto fuori cambina 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 c'era il ginocchietto fuori ma l'ha traccato subito il ginocchietto ha fatto triple body shot subito istantaneo triplo qua ho preso te tipo amore non si vedeva nulla qua è quando mi ha craccato mille volte non si vedeva nulla amore guarda amore guarda guarda si vedeva veramente nulla si vedeva niente amore sono 300 metri 300 metri con quest'arma erano dei demoni erano dei demoni va beh ha preso il pezzo va bene così grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti